Continuano i lavori dedicati alle strutture sportive nella città di Capaccio Pestum. Prende sempre più forma il progetto del Palazzetto dello Sport dedicato all'Atletica nella città dei Templi. Lo annunciava infatti qualche anno fa al Gran Galà dell'Atletica Agropoli il sindaco Franco Alfieri ed oggi pian piano vedrà concretizzarsi. Il progetto riguarderà la realizzazione di un Palazzetto dello Sport coperto dedicato interamente all'Atletica come sottolinea ai nostri microfoni il primo cittadino di Capaccio Pestum. Stiamo completando i lavori del campo di calcio Capaccio Capoluogo, abbiamo il rimontaggio delle due sfere geotetiche che diventeranno due palazzetti in realtà e stiamo sprogettando un grande palazzetto per l'Atletica coperto.